www.marinziopoli.it è stato firmato ieri dal Ministro del Lavoro il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze per oltre un miliardo di euro. Quindi nuove competenze formative destinato a sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche. Vi riporto qui poi la notizia. Sarà gestito dal ANPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che sarà responsabile della gestione della misura e pubblicherà nel mese di ottobre l'avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti. Il decreto è in attesa poi di essere firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Opportunità per tutti i progetti formativi di transizione digitale ed ecologica in ambito formativo per le imprese. Alla prossima!